è l'oste è l'oste qua sembra proprio una lingua si si come c'è il fumo nero ragazzi troverete un po' di monetina nelle fessure perchè fino all'anno scorso c'era una madonnina messa qui quindi molta gente lasciava la monetina ecco l'ha fatto in una carta banconote no eh? 10 centesimi un euro questa cosa qua fai il video hai trovato la notte ecco pronto gli animali tipici delle gotte sono ragni e tudi